ed eccoci con il primo prodotto marvel di quest'anno parliamo di eco serie che dagli ultimi tre le sembrava abbastanza interessante seppur ovviamente con un approccio tranquillo perché ragazzi sappiamo quello che la marvel ha fatto nell'ultimo periodo si salva poco e niente e quindi bisognava andare nei confronti di questa serie con molta 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 calma dai tre le sembrava tutto abbastanza interessante ma alla fine ragazzi possiamo subito dire che il miracolo non l'hanno fatto ma era abbastanza ovvio infatti non sono neanche qui troppo incazzato però come al solito siamo qui a dire le stesse robe ragazzi perché i problemi sono sempre gli stessi hanno sempre questo modo di fare per le serie che io non capisco partono in maniera abbastanza buona per poi perdersi successivamente è proprio lo stesso copione serie per serie uguale identico non si sa perché ma è così speriamo che sia l'ultima volta perché l'attenzione può più e parliamo ragazzi parliamone entriamo nel dettaglio ma prima ragazzi vi anticipo che ci saranno spoiler quindi siete avvisati ma prima ancora vorrei aprire una piccola parentesi ragazzi sulla questione marketing che come al solito è stata un po' ingannevole perché la serie sembrava incentrarsi molto sul regno di kingpin con tanta violenza con tanti scontri incredibili con la presenza massiccia di daredevil e invece poi alla fine non è che la serie si concentri molto sul regno di kingpin non si concentra molto neanche su daredevil che praticamente fa un cameo ma ci hanno fatto un marketing sopra che sembrava presente per tutta la serie sembrava quasi un personaggio talmente presente che quasi ho dubitato che potesse oscurare la protagonista ma invece manco per niente ragazzi compare 30 secondi e poi sparisce ma perché perché sto cavolo di marketing alla sony dei live action dove ti fanno credere una roba e poi alla fine è completamente diversa perché poi ragazzi i trailer le aspettative un po' le creano e per quanto uno possa ignorarle però è normale che un trailer ti dà sempre una certa idea che poi se non vai in quella direzione un pochettino mi snerva ragazzi perché allora daredevil fammelo scoprire nella serie fammelo scoprire come cameo magari mi sta pure simpatica la cosa ma se me lo fa vedere nel trailer sembra quasi che il personaggio sia importante per la serie veramente fanno queste cazzate ancora che non mi spiego perché perché creare false aspettative e poi il prodotto magari ti viene criticato cioè boh la marvel si colpisce da sola praticamente comunque parliamo adesso della serie in sé come vi dicevo dal trailer sembrava un qualcosa di veramente violento estremamente violento no hanno continuato a ripetere questo è un prodotto vietato ai minori anche durante le puntate ogni puntata saltava fuori questa scritta questa è una serie vietata ai minori sicuramente c'è del sangue sicuramente c'è della violenza maggiore ma leggermente maggiore rispetto agli standard della marvel ma non è niente di incredibile non è niente di pazzesco di veramente come dire tosto c'è c'è del sangue i personaggi diciamo si sporcano di sangue il minimo diciamo il minimo che almeno rende alcuni momenti un po' più carini e credibili rispetto ad altri prodotti in certe dinamiche però alla fine la serie è tutta altra cosa è una serie molto incentrata sulla famiglia cosa che dei trailer non si capiva manco per niente cioè si si capiva che c'era un certo rapporto tra mai e kingpin però non pensavo che fosse così così centrale questa questa cosa qui perché praticamente ragazzi l'intera serie si concentra sul rapporto tra kingpin appunto maia dove kingpin cerca di recuperare l'amore perduto da parte di maia perché mai abbiamo scoperto nella serie di occhi di falco che lei poi ha scoperto che kingpin era l'assassino di suo padre lei ha lavorato per lui per tanti anni è stata cresciuta da lui lui è stato come uno zio per lei ma lei lavorava al servizio per scoprire chi fosse il killer di suo padre che poi sappiamo essere occhio di falco ma occhio di falco l'ha ucciso per mano di kingpin per ordine di kingpin quindi cosa succede in questa serie succede che vediamo un kingpin che cerca di avvicinarsi in continuazione verso maia che continua chiaramente ad allontanarlo perché quello che ha fatto non può essere perdonato ed è tutto un po' così cioè praticamente abbiamo kingpin da una parte che cerca di recuperare questo rapporto sempre avvicinandosi con calma e sempre con maia che gli punta la pistola in faccia tra l'altro non si sa come ha fatto a sopravvivere la prima volta che l'ha sparato perché l'ha preso in pieno dell'occhio ma kingpin è sopravvissuto si lo so che questa è una cosa che accade anche nei fumetti però mi sembra comunque abbastanza abbastanza estrema ecco e poi dall'altra parte abbiamo la famiglia effettiva di maia vediamo questa distruzione della famiglia che avviene nel momento in cui la madre di maia perde la vita in un incidente dove maia perde una gamba il padre poi l'allontana dai nonni, i nonni che poi si separano l'allontana anche dall'amica di sempre, dalla cugina se non sbaglio con cui poi non parlerà per un sacco di tempo insomma si parla di famiglie, una famiglia distrutta, una famiglia veramente devastata e questo ci sta fino a un certo punto poi inizia un po' ad essere pesante perché è un po' ridondante tutta la parte del regno di kingpin è diciamo una piccola fetta di tutta questa storia perché io pensavo che magari ci mostrassero un qualcosa in più da questo punto di vista e invece si vediamo maia che vuole distruggere il regno di kingpin e prenderselo anche però viene fatto solo in minima parte c'è un episodio in cui maia fa saltare uno diciamo degli edifici di kingpin dove ci sono persone che lavorano al suo servizio però tutto poi finisce lì il resto della serie ragazzi è ripeto kingpin che si avvicina a maia maia che l'allontana, maia che parla con la nonna, maia che parla col nonno maia che parla con la sua vecchia amica, con la cugina e all'inizio sembra anche interessante però poi puntata dopo puntata boh va un po' scemando non riescono a reggere questo argomento diciamo c'è tutto questo mistero poi con varie persone che si vedono in varie epoche che poi scopriamo essere un potere che si tramanda di generazione in generazione nella famiglia di eco dove eco appunto può tirar fuori delle capacità che avevano le sue antenate da sfruttare in determinate situazioni come ad esempio lo scontro finale che poi c'è con kingpin dove kingpin perde la pazienza perché kingpin cerca per tutta la puntata di avvicinarsi a lei ma lei continua a rifiutarlo quindi lui prende in ostaggio la nonna e l'amica e qui c'è pure una scena abbastanza ridicola di lei che tira fuori i poteri e riesce a trasmetterli anche alla nonna e alla cugina che iniziano a picchiare i cattivi che cazzo di scena è quella ragazzi c'è veramente una roba ridicolissima veramente stupida ma fammi vedere come sfrutta i poteri lei non fammi vedere lei che passa i poteri alla famiglia e loro che combattono anche in maniera abbastanza goffa questo kingpin ragazzi che non sembra mai così particolarmente forte, tenebroso non siamo diciamo ai livelli della serie di Daredevil non dico che sia completamente diverso perché comunque a me come kingpin non mi dispiace anche perché l'attore è sempre lo stesso però l'ho visto abbastanza come dire moscio ecco abbastanza moscio come kingpin mi aspettavo qualcosa di più dark ancora di più violento anche perché kingpin a parte una scena in un flashback dove picchia un gelataio non è che nel presente faccia moltissimo anzi c'è un momento in cui sta per attaccare Echo ma Echo lo ferma subito e voglio dire se questo è kingpin minchia il potenziale è praticamente già sprecato ragazzi serie che veramente mi lascia indifferente una serie come al solito dimenticabile come l'estata Secret Invasion come l'estata Shulk purtroppo questa serie va a finire tra quelle lì magari sì possiamo dire che è leggermente meglio ma non abbastanza comunque ragazzi non abbastanza da soddisfarmi non è che posso accontentarmi del fatto che ci sia stata un po' di violenza perché la storia ragazzi è un po' una rottura di scatola diciamoci un po' le cose come stanno non è così intrigante o comunque la base potrebbe anche esserlo ma come lo sviluppano fa cacare non riesce a tenere botta per tutte e cinque le puntate perché poi cinque sono e porca miseria sono cinque puntate non riesce a tenere botta manco per cinque puntate io pensavo che questo fosse un lato positivo della serie avere meno puntati andare un po' dritti al punto ma praticamente mi hanno dimostrato che cinque puntate erano poche per il semplice fatto che non sapevano che cazzo raccontarti questa è la verità ragazzi lo ripetiamo quindi ancora una volta ragazzi c'è bisogno di rivedere completamente il modo di lavorare alla Marvel perché non ne stanno azzeccando una e anche Echo la possiamo buttare via vediamo a questo punto Deadpool 3 se questo miracolo riesce a farlo ci spero ragazzi perché se mi scazzano pure Deadpool 3 veramente non se ne può più dobbiamo aspettare veramente il 2025 per vedere qualcosa di fatto bene spero di no speriamo che si possa salvare almeno Deadpool è la serie animata che arriverà a fine anno di Spider-Man detto questo ragazzi sinceramente non ho altro da aggiungere basta così tanto la serie non ha detto tanto quindi a mia volta non ho tanto da dire manco io questo è quello che penso di Echo un'altra occasione sprecata c'è almeno diciamo l'aggiunta della violenza ma non basta è pochissima il marketing come al solito mente come la presenza di Daredevil ma non dico che Daredevil doveva per forza esserci ma almeno non me lo fa credere porca miseria perché sembra tutta altra roba sembrava tutto incentrato sul dover mettere sotto sopra il regno di Kingpin e poi alla fine è solo una piccola parte perché? cioè dai trailer sembrava molto più interessante e poi alla fine ricadiamo negli stessi errori ragazzi ditemi voi cosa ne pensate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti